I nuovi poveri forlivesi ci sono molti italiani, anche cittadini forlivesi da diverse generazioni che impattano con la crisi economica, soprattutto nell'ultimo periodo, a causa del protrarsi della crisi economica e di quella occupazionale e dell'estrema precarizzazione del lavoro che riguarda anche le famiglie italiane, soprattutto i giovani, le donne ed anche persone sui 50 anni che faticano a trovare una nuova collocazione lavorativa. Grazie a tutti.